Che è convinto comunque di avere buon gioco con una che è sia Bambolina che Bambolina. La camera porta luce e poi è molto più stretta di gomma di giù l'immaginario. Ho pensato molto a lei qua dentro l'immaginario, sempre sola, chissà quel più dritto. Mettiti a segnere cosa vuol avere quello che è tu che sia forte. Torno tra un momento, cerco un argomento, recitare la mia parte. E' così bella, 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 bella. E' così bella, 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 bella. Posso stare qui? Prendiamoci la scossa Prendiamoci la scossa La camera La camera presenza pure me attraverso questo di oggi faccio che portare in pronti posti la mandolina è più vecchia di me ma sono in pronti posti e potrei essere assoluti Dai, non c'è ne andare vuoi un po' dormire vorrei tanto che restassi un po' sì, che si può fare ma dovrei chiamare dimmi dove hai il telefono e anche per le sue mani mani, mani e anche per la chiesa la bra, la bra, la bra la bra, la bra Vieni, vieni vieni, vieni vieni Grazie a tutti Ti chiamo prima o poi Non so che se vuoi non posso restare Ma non insistere dai E apri la porta, 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 porta Apri la porta di porta, 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 porta Mamma, 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 giù, giù, quella pistola Mamma, mamma, veniremo qua Cosa devo fare? Mamma, 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 veniremo qua Pap, 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 solena, giù, giù, quella pistola Pap, 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 veniremo qua Cosa devo fare? Pap, 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 solena Pap, 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 la porta, pap, pap, mamma, giù, giù, quella Vediamo un po' insieme Grazie.